Si sono conclusi negli ultimi giorni i lavori di riasfaltatura sulla strada provinciale 100 tra San Bernardo di Mendatica e Monesi di Triora, in località Pravillan, dove vi era stata una frana causata dall'alluvione. Si tratta di interventi preziosi per garantire l'indispensabile sicurezza e decoro ai collegamenti con l'entroterra, ha sottolineato il presidente della provincia d'Imperia Fabio Nata. Lunedì prenderà invece il via a Borgomaro, in frazione Conio, l'intervento di consolidamento del versante della strada provinciale 25 che collega le frazioni di Ville San Pietro e Conio. I lavori progettati ed appaltati dalla provincia permetteranno di consolidare la parete rocciosa e di rendere quindi maggiormente sicuro il transito nella zona. A causa del cantiere la strada nel tratto interessato sarà chiusa per una ventina di giorni. Per tutto il periodo i mezzi saranno quindi dirottati sul tratto intercomunale della strada tra Aurigo e Conio.